Siamo all'ultimo minuto di Atletico Sacchetti Real Castelfontana, mancando 20 secondi alla fine il pareggio è già sicuro. Palle in aria, tiro e gol, vittoria in attesa. 20 secondi e cambia tutto, 16 giorni e cambia tutto. Credo che il calcio a 5 non sia altro che una rappresentazione in scala della nostra vita. Nell'arco di pochi attimi può succedere di tutto, sia in senso positivo che negativo. E quando le cose non vanno bene non c'è mai tempo per restare fermi. C'è sempre una partita da vincere, c'è sempre un campionato da affrontare. Francesco ama il calcio a 5 e siccome il calcio a 5 è vita, per un perfetto ragionamento aristotelico Francesco ama la vita. Questo lo sappiamo tutti e lo sa anche lui che dà sempre tutto per la sua squadra. Ma il tempo delle chiacchiere è finito, Francesco deve tirarsi su, lo sta già facendo, potrebbe farcela persino da solo. Ma se ognuno di noi dà anche il suo piccolo modesto contributo è meglio, non c'è Atletico, non c'è esse che tenga. Non stiamo parlando più del numero 19, qui stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni che al più presto deve tornare alla vita attiva. Quindi sempre per quel ragionamento aristotelico a stare vicino ai suoi compagni di squadra. Come è successo sabato scorso al Palazzetto dello Sport, anche l'Atletico dopo l'S Civitavecchia sta dando, sta omaggiando Francesco Rosalba con una maglietta speciale. Rosalba 10, il suo numero in Under 21, il numero del capitano proprio dell'Under 21, Francesco Rosalba. Francesco che migliora di giorno in giorno e questo ci fa immensamente piacere, come detto speriamo di rivederlo al più presto su questo campo.